Sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi. 22 persone, ritenute capi e gregari del clan camorristico Rega ed Egizio, attivi nell'Interland partenopeo, sono state arrestate nel corso di un blitz dei carabinieri. Tra le persone fermate ci sono la moglie del boss, Giovanni Rega, detenuto all'ergastolo, Maria De Cicco e i loro due figli, nonché il capo dell'altro clan, Umberto Egizio. Nel corso di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, i carabinieri hanno scoperto che i due clan avevano stretto alleanza per meglio organizzare gli affari illeciti a Castello di Cisterna e Casalnuovo. Avevano definito i ruoli di ciascuno degli affiliati dei gruppi criminali ed avevano attuato numerose estorsioni ai danni di imprenditori. Un sodalizio organizzato in ogni minimo particolare, dove ogni esponente aveva un ruolo ben preciso e un compito da portare a termine.